Buongiorno amici di TV12, buon sabato mattina in nostra compagnia per questo primo appuntamento con la nostra redazione, parleremo di cronaca e di sport, oggi inizia anche la settima giornata del campionato di Serie A in questo sabato 30 settembre dopo l'infrasettimanale che ha visto l'Udinese perdere 4-1 contro il Napoli ma ci arriveremo come detto a tempo debito, prima andiamo ad approfondire quello che scrivono e quello che troveremo oggi in edicola nelle prime pagine dei principali quotidiani nazionali iniziando come di consueto con il Corriere della Sera che apre con la notizia principale ancora relativa ai migranti la sfida con Berlino, si parla della Meloni, la Premier che andrà a Malta con Vordelain e Macron non si fa solidarietà con i confini degli altri, nel frattempo l'inflazione frena Meloni è l'ipotesi del complotto, i soliti noti vogliono un governo tecnico ma io non temo lo spread ha detto appunto la Meloni con anche il ricordo del Cavaliere sempre per restare nell'argomento politico con Paolo Berlusconi che ha detto Forza Italia dovrà sostenersi da sola dopo appunto la scomparsa del Cavaliere Silvio Berlusconi poi per quanto riguarda invece la fotonotizia Trump per quanto riguarda proprio la sua vita privata Melania rinegozia il contratto di matrimonio, nessuna intenzione di divorziare ma Melania Trump ha pensato che sia il momento giusto per riscrivere l'accordo prematrimoniale e tutelare se stessa e aumentare il fondo fiduciario intestato al figlio Barron che tra qualche mese compie 18 anni, queste appunto le tutele economiche che vuole Melania Trump nei confronti del marito, quindi non divorzio ma una ridiscussione dei termini fa un po' così strano dirlo ma dei termini dell'accordo prematrimoniale Ancora, la Repubblica che va di nuovo ad approfondire la tematica per quanto riguarda i migranti Palazzo Chigi sotto assedio, paura del governo tecnico Meloni sulle strette all'economia cerca un capro espiatorio la sinistra spera in un intervento esterno per eliminarci ma i suoi confida, ci giochiamo tutto da qui all'europea, difficili i prossimi mesi il PD che invece ribatte è chiusa nella paranoia visco di Banca Italia, i mercati reagiscono alle scelte sui conti pubblici nel commento di Francesco Bei si parla di una ricerca dell'alibi perfetto, ancora la tematica è sempre quella sui migranti nuovo attacco dell'esecutivo, ONG, schiaffo a Berlino non si fa solidarietà coi confini degli altri questa è la frase che avevamo letto poco fa riportata dal Corriere della Sera che rimbalza anche ovviamente e inevitabilmente sulle pagine della Repubblica ancora andiamo avanti nel nostro percorso con le prime pagine il manifesto che parla di un prigioniero da un mese il cittadino italo-palestinese Khaled El-Kaizi è detenuto ad Israele senza accuse Roma tace, Tel Aviv anche, oggi le piazze saranno accanto alla famiglia per chiedere a media e governo di rompere il silenzio che riguarda migliaia di palestinesi finiti dietro le sbarre e c'è proprio una foto di un corteo che molto chiaramente anche con l'hashtag come si fa ormai di consueto dice Free Khaled, ovvero Khaled Libero per quanto riguarda questa situazione di politica estera anche di cronaca estera e ancora le ONG Meloni e Musk tutti contro Berlino migranti, il governo rilancia le accuse alla Germania il miliardario li dà manforte gli incontri anche per quanto riguarda sempre i migranti di Palermo e la Valletta la soluzione, che sembra facile sulla carta ma non lo è stop, ai trafficanti, questo si legge sul manifesto Libero, che ancora ovviamente induggia sulla questione del barchino dei tecnici chiudete i porti, vogliono l'Italia questa l'accusa contro i giornali di sinistra che gonfiano l'allarme spread e invocano il ritorno dei prof l'altolà di Meloni, i soliti noti cercano di rovesciare il governo che però sottolinea è stato eletto esplode anche il caso Marelli Calenda, la FIOM mi minaccia questo anche poi approfondito nell'editoriale come al solito sempre molto diretto di Daniele Capezzone una proposta ammazza gufi sempre per quanto riguarda l'eventualità del governo tecnico che il giornale vuole appunto scongiurare e poi Richard Gere che da buca alle ONG non testimonierà contro Salvini deve fare un film questo è quanto viene riassunto anche nella fotonotizia in cui c'è l'immagine del noto, notissimo attore americano e il foglio che ancora andiamo ad aprire insieme che parla invece della professione dell'autocomplotto sono gli autolesionisti in Europa masochisti sulla crescita indifferenti ai segnali degli investitori ostaggi di un cupo vittimismo più che il passo dell'oca a minacciare il futuro dell'Italia è il passo del gambero del governo Meloni anche qui insomma senza giri di parole viene accusato il governo attualmente in carica da una campana all'altra passiamo sulla verità che parla delle marchette tedesche alle ONG che servono soltanto a foraggiare i partiti non sono manovre elettorali a guidare Berlino la loro consulta ha inguagliato il sistema di finanziamento e la partita di giro con chi ci porta ai clandestini è vitale il nostro Premier fanno i solidali coi confini altrui questo nell'articolo di apertura del quotidiano con l'analisi immancabile di Maurizio Belpietro fiumi di denaro dietro la cotta del governo Crucco questo per quanto riguarda la situazione proprio della politica estera al momento e poi anche un jacuzzi per così dire nella fotonotizia ad Alberto Angela che su Rai 1 mistifica la storia per esaltare i bisessuali di questo l'attacco abbastanza diretto al noto conduttore televisivo Alberto Angela in uno dei suoi approfondimenti scientifici e storici che sono sulle emittenti Rai il gazzettino ci spostiamo anche un po' verso il nostro territorio anche se comunque la tematica è quella con la Meloni che ribadisce nessun governo tecnico l'avviso alla sinistra della Premier siamo una nazione solida gli investitori lo sanno lo spread scende questo dice proprio Giorgia Meloni poi un approfondimento così l'auto elettrica cambierà il mondo l'intervista a Bruno Vianello e la nuova Texa ma l'allarme tra le righe è che mancano i tecnici questo per quanto riguarda anche notizie sul Trevigiano il giornale che invece andiamo ad aprire ancora insieme che sono c'è una voglia di complotto così viene viene chiamata sul giornale gli agnelli soffiano sullo spread i giornali di famiglia tifano per una tempesta sui mercati che faccia cadere la Meloni e lei attacca la sinistra sta già preparando il governo tecnico questo per quanto riguarda poi anche la situazione dei tedeschi solidali coi confini degli altri una frase ovviamente da titolo che viene non a caso riportata da tutti Berlino accoglie ma a casa nostra e tramite le ONG finanzia i partiti anche proprio la lettera qui appare della stessa Premier Meloni che dice l'emergenza va gestita non subita questo per quanto riguarda tutto il calderone di quello che sta succedendo poi c'è anche il pentito del caso Giletti calugne su Cavaliere e Mafia Baiardo va arrestato questo è anche un'ulteriore sfaccettatura di quanto successo tempo fa della questione che coinvolgeva anche il Cavaliere Silvio Berlusconi la stampa Meloni anche qui viene ribadito il diktat l'intenzione della Premier mai un governo tecnico polemica sulla tenuta dell'esecutivo lo spread del debito ai massimi pressing sull'Unione Europea non ci sono alternative nonostante la Meloni abbia detto che lo spread stia scendendo ovviamente qui la si pensa diversamente la Premier lo vuole la sinistra ha già pronta la lista dei ministri visco nessun attacco blindiamo i conti le posizioni che si registrano sulla situazione dell'eventualità del governo tecnico e poi migranti duello con i tedeschi sulle ONG vertice a Malta intesa con Parigi Roma contro Berlino fa solidarietà con i confini degli altri poi c'è due fotonotizie Lampedusa sulla pelle l'orrore della notte più buia è un ricordo indelebile inciso sulla pelle insomma un tatuaggio che ricorda uno un naufragio di evidentemente un migrante la croce a Ponte Galeria ora Service AG una multinazionale fantasma in Italia quali sono i suoi interessi si chiede la stampa nella seconda fotonotizia che abbiamo letto insieme sempre relativa comunque a questa tematica che rimbalzerà immaginiamo inevitabilmente anche su il fatto quotidiano che invece parla di prescrizione Cirielli tutti i processi a rischio Brandizzo Morandi e Visibilia e compagni i pubblici ministeri prevedono gravi conseguenze sui casi più recenti l'amnistia per i ricchi il pericolo anche in pericolo anche i casi delle plusvalenze Juve del Mottarone Cirielli disconoscono disconoscono la legge del Mastro i processi li ammazza la Cartabia questo per quanto riguarda i tribunali come si vede anche dalla foto e questo viene detto poi in taglio alto le due tematiche di cui abbiamo parlato finora Meloni che teme i tecnici la salva il super bonus e poi il riesame sulle stragi Bagliardo va arrestato Giletti ha detto il vero sulla foto Graviano Berlusconi questo appunto si legge sul fatto quotidiano ci spostiamo ancora su l'identità così licenzia la CGL viaggio tra i licenziati del sindacato del lavoro perfino causa covid tra spese pazze e proclami di Landini storia di un decennio di precariato proprio sul pulpito da cui si predica il bene dei lavoratori fotografia ipocrita di un'Italia che non cambia mai questo l'attacco alla CGL nel reportage dell'identità che viene approfondito come se ne conviene dall'editoriale di Tommaso Cerno lo statuto dei licenziati è bello scoprire che il sindacato più forte d'Italia quello che ha costruito lo statuto dei lavoratori e che ha segnato la storia del novecento la CGL abbia attinto la sua cultura sindacale dalla pratica quella di licenziare questo è l'inizio ovviamente dell'editoriale di Tommaso Cerno che potrete leggere con l'identità il sole 24 ore per chiudere le nostre prime pagine nazionali con l'inflazione che in Europa rallenta il 4,3% in Italia carrello della spesa sopra l'8% questi numeri sull'inflazione e anche su quanto costa la spesa in Italia poi c'è questo Germania Italia Francia con le tre confindustrie che dicono strumenti comuni in Europa per finanziare la svolta green in questo accordo trilaterale che speriamo possa portare buone notizie sotto il fronte della sostenibilità ambientale ci spostiamo andiamo verso le questioni della nostra regione della nostra città con il messaggero Veneto leggiamo la prima pagina che parla dei rincari delle bollette il caro vita in Friuli Venezia Giulia al costo dell'energia elettrica sale del 18% i consumatori sono aumenti ingiustificabili questo viene detto poi in taglio alto primo suicidio assistito in regione il sì definitivo del comitato etico poi la questione nazionale della Meloni che sfida Bellino sulle ONG navi nei porti della loro bandieta con questa un po' una presa di posizione abbastanza chiara cronaca saranno attivate oggi nei parchi le telecamere al Moretti e al Cormor questo si può approfondire all'interno la Maxi Rissa Udine scarcerati due giovani fuori pericolo il ferito mentre a grado arriva il commissario ed è Augusto Viola poi altra notizia che approfondiremo nelle pagine interne piazza Garibaldi pedonale è più sicura questa è la scelta dell'amministrazione e ancora le idee della settimana si rivede lo spettro del golpe per quanto riguarda 12 anni dopo torna in fantasma del golpe contro Meloni del suo governo si intende poi quando commissariare conviene maltrattamenti in famiglia e impunità sono i tre approfondimenti che vengono scelti poi anche un freggio per la regione chirurgia al top ragazza apre la bocca chiusa dalla nascita nell'equip c'erano anche due medici udinesi che sicuramente è una notizia che fa piacere messaggero Veneto edizione di Pordenone che andiamo a vedere nella sua prima pagina con lo stesso titolo principale e anche lo stesso taglio alto c'è invece una forma davvero particolare di protesta dei ragazzi che protestano palleggiando fino al comune ex giocatori allenatori giovani cettisti e genitori hanno protestato palleggiando appunto fino al municipio i manifestanti sono stati poi ricevuti dall'assessore allo sport sicuramente una forma di protesta molto molto civile anzi in cronaca gli 11 milioni ci sono via libera agli alloggi universitari al Bronx contratti di solidarietà all'electrolux di Porcia sta salendo la tensione poi ma allora in casa muore broker e dirigente calcistico sempre notizia relativa al Pordenonese per quanto riguarda il piccolo di Trieste si parla di test cardiaci in farmacia con il riafferto di Asugi electrocardiogramma senza impegnativa di Lenarda esito in giornata costo da 30 a 35 euro poi la Barcolana nella fotonotizia che salpa con i comacose foto che riguarda anche lo sport con l'unione triestina chiaramente che straccia la capolista vale a dire il Mantova e quindi un colpo importante per quanto riguarda la squadra di calcio piccolo edizione di Gorizia per approfondire anche quanto è accaduto nel Goriziano la donazione di Goni salva l'UGG questa è la fotonotizia anche qui si parla di test cardiaci in farmacia e come abbiamo letto sul messaggero veneto di Udine Viola è il nuovo commissario per quel che riguarda grado torniamo sul messaggero veneto del punto per quanto riguarda la sezione di Udine che parla di piazza Garibaldi pedonale perché al momento è pericolosa per i ragazzi l'assessore Marchiolla ha spiegato che il primo obiettivo del comune è garantire la sicurezza agli studenti questo è al momento lo stato attuale che verrà cambiato e poi un piano di interventi anche per contrastare il proliferare dei topi il servizio sarà affidato a una ditta che eseguirà monitoraggi costanti Meloni auguriamo un nuovo metodo con trattamenti programmati ovviamente inauguriamo questo per quel che riguarda anche la derattizzazione c'è anche poi ancora la notizia che ci interessava sul fronte della sicurezza da oggi telecamere attive nei parchi Moretti e Cormor in città ci saranno 194 occhi elettronici saranno monitorati anche il campo sportivo e l'area giochi di viale 25 aprile con un investimento del comune che ha speso 84 mila euro per queste installazioni di 17 impianti le immagini vengono condivise nella sala di via Girardini con la questura e i carabinieri ha parlato anche il vice sindaco venanzi in due mesi realizzati i lavori di potenziamento chiesti dai cittadini e anche questo aumentare della sicurezza è sicuramente importante lasciamo la cronaca per spostarci sulle prime pagine sportive perché c'è chiaramente il campionato che torna anzi prima vediamo il programma grazie alla regia di Francesco Zilli della giornata di campionato che ci attende perché comunque c'è un sabato bello intenso perché rientra la Champions quindi Lecce-Napoli Milan-Lazio Salernitana-Inter Bologna-Empoli inaugurerà la domenica Udinese-Genoa sarà la gara delle 15 della domenica poi Roma-Frosinone Atalanta-Juve Sassuolo-Monza si gioca lunedì così come Torino-Verona e Fiorentina-Cagliari con ovviamente occhi puntati per noi su Udinese-Genoa per quanto riguarda la Serie A gli occhi sono puntati sul duello in testa mi gioco la testa è il titolo della Gazzetta dello Sport perché oggi giocano entrambe Inter c'è la Salernitana Inzaghi dalla scossa ma si ferma Frattesi in avanti vedremo Sanchez e Turam Milan contro la Lazio di Luiz Alberto Pioli ripropone Giroud Leao e conferma Adli che ha giocato al posto di Krunic Napoli come osi il ministro nigeriano no al razzismo e Garzia punta comunque su Osimen a Lecce riferimento ancora ai video di TikTok sicuramente molto controversi che infatti hanno fatto infuriare e non poco Osimen Roma Mucca e Fai ingaggia al top ma risultati shock il tecnico finisce sotto accusa Roma che ovviamente ha una classifica che piange di 5 punti soltanto in 6 giornate c'è poi l'inizio della Rider Europa Super e Golf da manuale eccesso di affetto nella ginnastica ma Carani ammonita questo per quanto riguarda le altre notizie notizie degli altri sport Lazio per sempre e invece l'intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Luiz Alberto oggi l'esame Milan alle 18 il mago tra presente e futuro lunedì verrà annunciato il suo rinnovo fino al 2028 sono antico non vedo altri come me io e Sarri simili anche un po' strani senza Milinkovic Savic ho più responsabilità ma è Ciro l'immagine della squadra questi gli spunti dell'intervista di Luiz Alberto Napoli Lecce o Real è sempre Champions martedì ci sarà Napoli-Real Madrid con il ritorno di Ancelotti a Napoli a Salerno invece l'Inter un altro guaglio K.O. anche frattesi Juventus la marcia è da scudetto quota 13 in classifica i numeri confortano Allegri dal 19-20 i bianconeri non ottenevano così tanti punti dopo le prime sei giornate allora arrivò il titolo domani la sfida all'Atalanta avanti con Blaovic Chiesa mentre è recuperato Ken questo per quanto riguarda il corriere tutto sport proprio dice Max Allegri sentito Pioli il tecnico del Milan capolista stuzzica i bianconeri Juve favorita per lo scudetto non fa le coppe sono punti in più vedremo la risposta di Allegri quest'oggi buongiorno che guaio Sazonov che era stato un obiettivo dell'Udinese a te il derby con una difesa da reinventare dice tutto sport Inter ora allarme out pure frattesi potrebbe giocare Klasen arrivato dall'Ajax emergenza Stadi anche De Laurentiis vuole il commissario ancora altri sport basket via all'A Madolò dal mondiale a Milano qui rivinco mentre nella Ryder Cup di golf l'Europa parte forte Roma è in delirio ci concentriamo anche su le tematiche relative all'Udinese vi ricordiamo domenica ore 15 contro il Genoa sottil cambia dice il Gazzettino ma il Genoa da poker ora fa paura i bianconeri domani potrebbero iniziare contratti avranno bisogno di tutto il peso del pubblico attese novità dietro e in mezzo per quanto riguarda le scelte di formazione che possiamo vedere abbiamo idee diverse qualche novità in mezzo potrà starci difficile immaginare qualche novità dietro nonostante vedremo oggi nella conferenza delle 13 di Sottil se ci darà notizie su Cabasele è molto probabile che dietro si rimanga con quei tre Perez Viola e Christensen ancora con Ebbosele e Camarà sugli esterni a occhio però a Zemura che insidia Camarà e dovrebbe tornare il centrocampo canonico con Samarzic Wallace e Lovric con questa suggestione Pacero che può giocare anche al posto di Wallace qualora Sottil lo ritenesse necessario davanti ancora spazio a Tovenna e Luca con Saxes che scalpita un Genoa che ha giocato anche un giorno dopo rispetto all'Udinese che dovrebbe invece riproporsi con il 3-5-1-1 anche se poi cambia spesso in corsa Persi Badel e Strootman per infortunio giocheranno Torsby e Cutlu a centrocampo rientra Martin dalla squalifica ma dovrebbe comunque giocare Matturro a sinistra con Sabelli a destra difesa straconfermata così come l'attacco Gudmundson Retteghi entrambi in gol contro la Roma dopo la sosta il posticipo con Lecce questo un po' si va a ricordare sul gazzettino il calendario che sarà comunque molto molto intenso perché ci sono sicuramente sfide importanti all'orizzonte speriamo già non decisive Samarzic dovrebbe essere in campo fin dall'inizio che a Basel si scalda come dicevamo prima possibile ballottaggio Pacero Wallace con anche Guido Comirato allineato con questa lettura Lucky Samarzic che parla anche su Instagram dice testa bassa e lavoro Gilardino confida in Messias che è rientrato dopo l'infortunio e ha subito segnato contro la Roma queste le notizie che riguardano l'Udinese ci spostiamo anche per leggere di basket perché oggi inizia la 2 oggi Cividale che darà il via a tutta la 2 Girone Rosso Girone Verde sarà l'unico anticipo Cividale Verona al Palagesteco coach Pillastrini ha detto ci sentiamo bene mentre l'Old Wild West Udini andrà in Puglia ci sarà anche Gaspardo Gerosa ha detto ci aggrediranno vedremo anche se ci sarà Clark prima di chiudere con il messaggero a proposito di basket sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato ieri quindi molto molto fresca ieri nel tardo pomeriggio con Matteo Berti centro di Cividale che ha saltato tutto il precampionato per l'infortunio adesso è rientrato in gruppo e pronto stasera a dire la sua contro Verona beh diciamo sì per me è stato un periodo un po' complicato perché arrivo insomma da un infortunio durante la prestagione finalmente posso dire di essere entrato nel gruppo questa settimana di essermi potuto allenare e finalmente possiamo esprimerci in questo inizio di campionato contro Verona una squadra molto di grande qualità e niente il gruppo fantastico mi sono trovato subito bene con tutti quanti e non vedo l'ora di vedermi anch'io all'interno di questo gruppo dato che non si è potuto insomma vedere in questo mese per stagione è stato un precampionato anche con Supercoppa ovviamente squadre che ambiscono al salto di categoria poi tanti amichevoli probanti comunque vi sono state preziose adesso per il campionato sì 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 sono state un motivo di vedere a che punto eravamo dal punto di vista tecnico dal punto di vista fisico per vedere se eravamo pronti no ad affrontare squadre alla fine il precampionato è andato anche tutto sommato abbastanza bene da come ho potuto vedere da fuori il gruppo si è formato ancora di più abbiamo potuto avere tempo insomma per poterci metterci ancora di più insieme nuovo gruppo insomma sempre nuovi giocatori nuove magari qualcuno arrivava da modalità di gioco diverse rispetto al coach e quindi questa precision è stata appunto un momento per unirci ancora di più da quel punto di vista queste le parole di Berti l'evento lo ricordiamo nella sede di progetto Autismo FVG Ceriti Partner della Webgesteco dove è stata presentata la seconda maglia e dove è stato anche intitolato un club al presidente Davide Michalic uno special fan club sicuramente un'iniziativa apprezzabile ancora sport Udinese Samaric Zemura dall'inizio ci dice il messaggero come anche dicevamo prima Pacero che potrebbe far sedere in panchina Wallace confermato Camara sulla sinistra queste le possibili novità di formazione sull'arbitro con Mariani tre vittorie di fila speniamo bene Valerio Alvar e invece porta meno bene dice sempre il messaggero gli avversari Girardino sa già che Alfriuli non avrà Strootman e Badel poi ancora se dice Floro Flores l'ex diventato tecnico dice se uno dei bianconeri non ha ancora compreso l'importanza della gara dovrebbe farsi da parte Floro Flores che è doppio ex che ha recentemente lasciato Udine e che quindi non potrà essere domenica al Blue Energy Stadium per la partita tra Udinese e Genoa dove ci sarà Reteghi non Brenner in questo intreccio di mercato che hanno portato il brasiliano in Friuli per sostituire Beto al posto dell'Italo Argentino che domani sfiderà l'Udinese Reteghi che era stato uno dei papabili nomi per l'Udinese ma poi l'ha strappato il Genoa Brenner che purtroppo dovremmo aspettare per vederlo all'opera dopo il bruttissimo infortunio che ha avuto il big match Saramila a Lazio Napoli a Lecce Inter a Salerno questo è il piatto ricco del sabato sera che ci aspetta anzi del sabato tutto perché si parte dalle 15 si finisce alle 20.45 ancora Basket che apre proprio con le tematiche in casa a Gesteco che oggi fa il suo esordio stasera arriva Verona la Gesteco vuole cominciare alla grande coach Pilla Strini inizio da Brividi avversaria fortissima oltre a Ramagli sottolinea il messaggero ci sono tre ex APU Penna, Gazzotti ed Esposito e poi c'è la sfida tra i fratelli Bartoli davvero tante tematiche è una gara che seguiremo anche questa sera e domani vi daremo tutte le voci dei protagonisti presentate le nuove maglie con un occhio alla solidarietà come vi dicevo prima ma c'è ovviamente spazio anche per l'APU che gioca però un giorno dopo domenica alle 18 oggi l'APU parte in aereo verso la Puglia domani c'è Nardò grande dubbio Clark ci dice il messaggero oggi la truppa da aver temati vola in Puglia per l'esordio l'americano è out da tre giorni per quanto riguarda Nardò occhio al pericolo Smith americano più produttivo della scorsa stagione e infine ci dice l'assistant coach Gerosa sarà una partita tosta una verità che ovviamente già sapevamo e che però il coaching staff dell'APU ha voluto ribadire perché è una delle trasferte sicuramente più insidiose del campionato di A2 sicuramente la più lunga lunga come nostra giornata insieme vediamo la programmazione perché c'è davvero di tutto di più si comincia subito 10.55 saremo live per Renate Udinese terza giornata del campionato primavera dopo la vittoria in Coppa contro Venezia alle 13 subito altra diretta conferenza stampa di Sottil dal Blue Energy Stadium Press Room 13.30 poi la speciale mostra artigianato di Venezia FWG motori alle 18.30 e torna poi la nostra informazione alle 19.00 lo sport 19.15 TG News 24 con il film in prima serata 21 grammi con un cast che non ha bisogno di presentazioni Sean Penn e Naomi Watts per una serata anche all'insegna del grande cinema è tutto per la nostra segna stampa insieme adesso sigla e poi le previsioni del meteo a a Grazie a tutti.